Le associazioni Opera Maestra e Stella Polare continuano ad essere al centro delle polemiche che riguardano i finanziamenti ricevuti dal Comune, che con l'ultima scoperta inerente al contributo del Festival del Mare arrivano a sfiorare la quota di 350.000 euro in soli due anni. Numeri che hanno mobilitato i consiglieri d'opposizione pesarese, che nel prossimo Consiglio Comunale chiederanno una commissione speciale di inchiesta al riguardo. È incredibile che somme così importanti, somme così ingenti siano assegnate, un affidamento diretto senza nessun criterio di rotazione, perché di fatto sembra che siano sempre assegnate le stesse associazioni, Opera Maestra e Stella Polare, quell'altra associazione, perché lo vediamo anche dalle segnazioni, sono dei semplici coppi in colla. Ed è incredibile che queste somme vengano assegnate e poi quando chiediamo al sindaco o all'ex sindaco Ricci o al dirigente delle manutenzioni Giraldi, se conoscono questa associazione, addirittura molti di loro negrano di conoscerla, di essere a conoscenza di questa associazione. Eppure la giunta al Comune, la giunta prima al Comune adesso, gli hanno assegnato, ripeto, somme veramente ingenti. Ci vuole trasparenza, ci vuole chiarezza perché questi sono soldi pubblici. Quindi noi andremo veramente a fondo di questa questione perché, come vediamo, un'altra cosa poi incredibile è che queste somme vengono assegnate a un'associazione no profit, socio-culturale, che non ha dipendenti, che ha soltanto dei volontari, che non hanno nessuna posizione in IMSS, quindi non possono ricevere chiaramente nessuno stipendio, eppure vengono affidate a questa associazione dei lavori di manutenzione. È incredibile. In più, veramente anche tante volte è difficile riuscire a trovare queste assegnazioni, perché se noi andiamo a fare una ricerca sul sito del Comune è difficile individuarle, perché sono un unico calderone. Infatti noi chiederemo che questi affidamenti diretti siano messi, inseriti online, ma in un capitolo a parte. Noi ci siamo trovati ad avere il decalogo che abbiamo presentato l'altro giorno in conferenza stampa completamente disatteso. Nessuno ha dato risposta alle nostre dieci domande, delle domande semplici che chiedevano chiarezza. Ora, siccome siamo consapevoli di quali sono gli strumenti in capo ad un consigliere comunale, sappiamo perfettamente che a norma dell'articolo 37 dello Statuto Comunale c'è la possibilità di chiedere delle commissioni speciali di inchiesta su temi specifici. Una commissione di inchiesta ad hoc su questo tema non possa che far bene alla cittadinanza. Con un ordine del giorno urgente presenteremo la richiesta al Consiglio Comunale, dovrebbe essere la prossima settimana, in cui chiederemo l'istituzione di una commissione speciale. Ci auguriamo, poiché questa richiesta dovrà essere votata dal Consiglio Comunale, che il Consiglio in maniera unanime decida di votarla e di approvarla. Anche perché il vero tema, oltre a queste due associazioni, Opera Maestra e Stella Polare, che hanno sede nello stesso luogo, con lo stesso legale rappresentante, la vera domanda è quante altre associazioni in questi anni hanno ricevuto attraverso degli affidamenti diretti da parte dell'amministrazione comunale degli incarichi per riuscire a portare avanti degli affidamenti diretti.